Abbiamo qualcosa per te, qualcosa di molto intimo. Rosy, non so come dirtelo. In quella tomba non c'è il corpo di tuo figlio. Se ti rimetti in gioco, non potrai più tornare indietro. Secondo me tu non hai capito con chi hai a che fare. Che cazzo sei? Io sono Rosy Abbade. Tuo figlio è morto. No, mio figlio è vivo! Io sono disposto a fare qualunque cosa. Ciao mamma. Lei è Rosalia. E potrebbe essere la tua nuova tata. Leonardo. Rosalia. Leandro, ricordi che cosa ti ho detto sul rispetto? Fatti rispettare. Corri Leo! Giovane! Leonardo è mio figlio. Lo sai, c'è stato un momento in cui ho pensato che Leonardo potesse stare veramente meglio con voi. Io ti avrò per sempre, Leo. Per sempre. Ho capito che merda siete veramente. È una famiglia di mafiosi. Il mio figlio me lo riprende, hai capito? Ci devi solo provare. Non ci posso credere che Claudia abbia fatto. Dimentichi, Claudia. Quella donna è Rosy Abbade. Non sono qua per arrestarti. La tua copertura è salva. Sto arrivando, Leo. Aspetta, mio amore, che sto arrivando. Io non ti mentirei mai, mai. Tu chi sei, Rosalia? Io sono la tua mamma, Leo. Perdonami, Leo. Ha scelto me. Non gli mancherai. No! Leo, non abbassa la pistola. Perché non mi ha detto la verità? Perché non mi ha detto che Rosalie è mia madre? Vai via, non c'è più tempo! Non c'è Gabriella, non c'è niente che mi possa tenere distante da te, capito? Mamma! Aspetta, mio amore, perché io torno? Non te lo devi dimenticare mai, Leo! Ciao!